E a proposito di ponti possibili tra questi vari settori e tra le porte chiuse che si trovavano una volta, sicuramente associazioni come la UISP sono associazioni che hanno contribuito a far trovare delle porte aperte. E vorrei a questo proposito dare la parola a Tommaso Iori che è il presidente UISP del Trentino che è in piedi adesso. Grazie mille, non un intervento di merito anche perché il tempo ormai è pochissimo, più che altro un ringraziamento a nome dell'UISP, non solo l'UISP del Trentino, l'UISP a livello nazionale, ai relatori per aver accettato l'invito a un tavolo così impegnativo dove discipline così diverse si sono confrontate su un orizzonte di lavoro comune. Grazie mille, un ringraziamento al gruppo nazionale Stili di Vita e Salute che ha contribuito a organizzare questo convegno che credo rappresenti meritatamente l'esito di quattro anni di lavoro, di lavoro importante sul territorio a livello territoriale, a livello nazionale. Qui l'UISP si è accreditata non solo per quello che è, cioè un'associazione che promuove attività sul territorio, attività sportiva, attività motoria, ma anche come interlocutore mi auguro credibile, sempre più credibile dell'ente pubblico nella definizione di strategie pubbliche di promozione della salute. Quello che abbiamo provato a fare, che dovremo fare anche nei prossimi anni, è quello di mettere a disposizione il nostro capitale associativo per il raggiungimento di obiettivi strategici, obiettivi collettivi. Nella consapevolezza appunto che, come nella salute e anche nell'accesso all'attività motoria e allo sport, le disuraglianze incidono molto e quindi non basta sancire e dichiarare un diritto, ma bisogna anche costruire davvero reali e concrete opportunità di accesso. Come diceva Fabio Lucidi prima, le porte aperte delle opportunità, ma allo stesso tempo anche cittadini e cittadine nelle reali possibilità di entrarci all'interno di queste porte. Per cui servono strategie, sinergie, rete, servono alleanze che è appunto il titolo di questo evento. Quindi davvero grazie e buon lavoro per i prossimi anni. Grazie Tommaso.